tesoro guarda che devi fare una cosa fatta bene eh tesoro sto facendo pure il video ascolta Jack fai una scena da film ti sto riprendendo devi fare il pirata cattivo cosa fa il pirata cattivo il pirata cattivo deve dire ai suoi mozzi il pirata cattivo deve parlare con i mozzi e deve costringere a fare qualcosa altrimenti li butta dai pirati dai pesci cani dai fai cattivo 15 uomini 15 uomini sulla cassa del morto